John Borne ragazzi, John Borne benvenuti in questo nuovo video chiedo scusa per la voce che manca, che non c'è chiedo scusa perché non sono in una situazione idilliaca però ovviamente the show must go on e quindi dovevo andare avanti nel portarvi i contenuti e oggi con la maglia del Brescia, così a caso, completamente a caso andiamo a parlare di una situazione che a mio modo di vedere è abbastanza surreale prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare tantissimi qui sotto mi raccomando e se non l'avete già fatta iscrivervi anche al canale mi raccomando supportate questo canale che va avanti sempre in ogni situazione questa sera è una sera molto particolare perché questa sera ci giochiamo il mondiale affronteremo la Macedonia, nel contempo il Portogallo affronterà la Turchia e poi le due finaliste, le due vincitrici si affronteranno in finale tra 3 o 4 giorni quindi questa è una giornata molto importante stamattina ho caricato un reel, andate a recuperarvelo lo trovate direttamente qui in alto nelle schede oppure sul canale insomma, andate a recuperarvelo perché? Perché è molto molto carino e perché dà molta fiducia in vista appunto della partita di stasera fatto sta che ieri, come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che la Russia si sarebbe candidata no, si sarebbe, si è, perché la UEFA ha confermato si è candidata per partecipare, per ospitare l'Europeo 2028 e 2032 il direttore generale del Rubin Kazan, nonché membro del comitato esecutivo di Mosca Rustem Saimanov, ha detto non è uno scherzo, la vita continua c'è molto tempo, la situazione cambierà ora, io non voglio entrare nel dettaglio di quello che potrebbe essere il futuro del nostro calcio europeo e del calcio anche in correlazione con la Russia per la situazione che sta accadendo appunto ai mondiali, ai mondiali, al mondo altro che mondiali al mondo per la situazione Russia-Ucraina certo è che mi sembra abbastanza inopportuno, no? loro si sarebbero proposti per ospitare un europeo tra il 2028 e il 2032 e la UEFA, in tutto e per tutto, in toto ha confermato che la proposta è arrivata ed è stata recepita, è stata presa in considerazione lui ha detto questo non è uno scherzo siamo pronti e siamo aperti non dovremo farci chiudere da UEFA e FIFA abbiamo ospitato tante gare di livello ad alto livello e oggettivamente è così cioè non ci dimentichiamo che loro in primis hanno ospitato un mondiale recentemente nel 2018 quindi sotto il punto di vista organizzativo le strutture le hanno allora facciamo un attimo una premessa dove siamo arrivati con la situazione dell'organizzazione degli europei nel 2028 ci sono tre candidature questa della Russia una della Turchia e una congiunta a quattro del Regno Unito Inghilterra, Irlanda del Nord EIR anzi a cinque EIR Scozia e Galles quindi tutte le nazioni facente parte del Regno Unito l'unica cosa che dico però con tutto il rispetto è che se nel 2028 dovessero organizzarlo cinque nazioni sarebbe opportuno far passare tutte le nazioni dalle qualificazioni perché altrimenti ragazzi cinque nazioni che vanno direttamente all'europeo insomma capite bene che un quarto dei posti sono già andati a puttane quindi questa è una cosa e volevo sottolineare fatto sta che nel 2028 appare quindi la candidatura della Russia la seconda cosa è quella del 2032 perché ci interessa da così vicino? perché nel 2032 ad oggi le candidature sono appena due quella della Russia appunto e quella dell'Italia quindi ci siamo anche noi e ci contenderemo il posto al momento con la Russia per ospitare Euro 2032 è chiaro che la situazione non sarà così per sempre anche perché altrimenti perché adesso ovviamente ci sembra utopia che un giorno la Russia possa tornare a fare un mondiale con noi un europeo con noi ma ragazzi se così non fosse la Germania stessa con quello che è successo durante la seconda guerra mondiale non sarebbe tornata a partecipare a competizioni di calcio e invece ovviamente le situazioni cambiano si evolvono non sarà così per sempre ed è normale che si pensi anche al futuro la cosa che vado a criticare è il tempismo il tempismo mi sembra quasi una presa per il culo perché cioè sembra quasi una provocazione quasi fatta per dare fastidio perché effettivamente tu sai che sei in una situazione in cui hai tutto contro quindi cosa mi rappresenta in questo momento il fatto che tu debba presentarti presentare la tua candidatura a ospitare l'europeo quando qualche giorno fa ti hanno squalificato dal mondiale personalmente mi sembra surreale quasi penserei veramente che fosse una provocazione in pieno stile perché a un certo punto uno fa due calcoli e dice non metto in dubbio che tra tanti anni 2032 sono 10 anni la situazione sarà drasticamente cambiata diametricalmente opposta assolutamente sì però ad oggi proprio oggi che tra l'altro si gioca le qualificazioni al mondiale in cui la Russia sarebbe dovuta scendere in campo stasera ma è stata esclusa per la situazione bellica insomma che oggi proprio la Russia presenti la propria candidatura per ospitare l'europeo cioè uno dei due europei 2028 2032 mi sembra una presa per il culo se posso essere sincero un'altra situazione che andava secondo me e va trattata è l'idea pessima assolutamente inguardabile della FIFA che aveva pensato negli ultimi giorni di mandare l'Ucraina direttamente ai mondiali come segno di vicinanza solidarietà io non voglio fare il lamentone ma non sono nemmeno uno di quelli che dice ma quello ma quell'altro però se questa dovesse essere diciamo la linea guida se questo dovesse essere il diktat fatemi dire che l'Iraq lo mandiamo ai mondiali da 50 anni a questa parte in modo completamente gratuito essendo che sono anni che viene costantemente distrutto e lesionato da situazioni belliche quindi sinceramente la reputo una grandissima cazzata cioè comprendo anche tutto sommato la decisione di escludere la Russia da una competizione come quella di quest'anno il mondiale che sulla carta almeno dovrebbe unire però è comunque una competizione di merito quindi pensare che l'Ucraina possa qualificarsi d'ufficio solamente perché è stato attaccato nel mondo mi sembra una cazzata l'Ucraina ha i propri giocatori che tra l'altro non sono impegnati sul non sono impegnati sul discorso guerra ma molti quasi tutti giocano in Europa nei cinque campionati top d'Europa quindi Italia Francia Spagna Germania Inghilterra qualcuno in Portogallo qualcuno in Olanda quindi capite bene che questo problema non ci sarebbe sarebbe semplicemente un regalo che la UEFA la FIFA farebbe e mi sembra una cazzata Yarmolenko capitano se non sbaglio capitano dell'Ucraina è stato chiaro ha detto ora è difficile pensare al calcio ma noi scenderemo in campo diretti al mondiale dice Yarmolenko è assolutamente sbagliato l'ho letto da qualche parte ma non lo condivido e io apprezzo enormemente le parole di Yarmolenko dice abbiamo braccia e gambe per giocarcela la più forte andrà in Qatar sono completamente d'accordo poi se l'Ucraina non dovesse andare al mondiale vorrà dire che calcisticamente parlando non gli è riuscito però andarci di diritto porterebbe anche delle antipatie che in questo momento non gli spettano e non si meritano li vedrei molto più in campo a giocarsela a passare e a diventare una sorta di squadra simpatia di quello che sarà il prossimo mondiale detto questo fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto i suoi video lasciate tantissimo mi piace poi ce la lalene come sempre ci vediamo al prossimo video vi ringrazio Grazie a tutti.